Fare un libro senza volerlo fare, mi ero scritto sta cosa qui all'inizio, e cioè facciamo una serata... Forte, non si sente. Non si sente? Sì, si sente. Sento un rimbombo bestiale. Sorda. Sì, sorda. Allora, intanto ringrazio Lea Vergine e Francesca Alfano Miglietti di essere venuti a chiacchierare su questo libro che è uscito l'anno scorso. Libro curato da Barbara Radice, che raccoglie tutti gli scritti, almeno Emilco Carboni, scusami, mi scusi, che raccoglie tutti gli scritti di Ettore Sozzas dal 1947 al 2001. Adesso io non so se sono proprio tutti, tutti. Comunque, magari chiederò qual è stato anche il criterio, amico Carboni, di raccolta e di catalogazione di questi scritti. Comunque, mi interessava stasera non tanto parlare di accennare dei temi sul lavoro di Ettore come progettista, o sui temi proprio che ci sono sul libro. Poi, naturalmente, ne parlerò un poco, perché sono molti e diversi. Ma sul fatto della scrittura. Io personalmente amo la scrittura come tecnica precisa. Gli architetti scrivono, alcuni molto, altri poco, altri anche troppo. E perché gli architetti scrivono? Gli ingegneri scrivono poco, i commercialisti non scrivono. Gli artisti poco fanno l'Europa. Gli architetti, invece, amano scrivere o comunque trasformare in parole i loro pensieri sull'architettura e su quello che vedono. Forse perché progettare è un'attività che comporta un'osservazione minuta, analitica, della vita, dei comportamenti, dei modi di essere. Forse perché progettare l'architettura è prodisporre questi spazi per la vita. E progettare anche design dovrebbe, chi progetta design dovrebbe conoscere la ritualità, il mistero, la complessità, la semplicità che i comportamenti si portano dietro per produrre oggetti e cose. E gli architetti scrivono perché evidentemente questa attività ha un suo carattere indagatorio profondo. Non è semplicemente una scrittura tecnica. Ancora gli architetti design osservano e raccontano, cioè cercano di collocare il loro lavoro e cercano di spiegarlo alcuni. Invece in questo libro di Ettore non si spiega nulla del lavoro di Ettore. Sono proprio scritti che riguardano un modo di osservare il mondo. Ettore non è uno che ama i grandi progetti, nel senso non tanto dimensionale ma teorico. E non ama neanche le grandi costruzioni teoriche. Non mi sembra sicuro di sapere mai bene che cosa bisogna fare, anche se poi fa un sacco di cose. Non mi sembra uno che dice che si fa così perché è giusto far così. Cioè è abbastanza antiretorico e antaccademico in questo. Nell'architettura come nel design, lui ci ha abituato che il progetto è un'attività un po' multiforme, frammentaria, continua, ma che è anche un esercizio, proprio un esercizio nel senso quasi ginnico del termine. Non so, io ogni tanto abbiamo chiacchierato e ho sempre avuto l'impressione che Ettore non fa disegni e non scrive perché c'è qualcuno che gli chiede di fare un disegno e di scrivere, ma perché appartiene a una sua forma di conoscenza complessiva. Cioè un modo di affrontare l'analisi delle cose e restituirla attraverso non tanto dei pareri precisi quanto proprio raccontarla. E poi ognuno la interpreta, la legge e la usa come vuole. Cioè c'è questo flusso che nel libro risulta estremamente percepibile. Cioè questo non è un libro, come dicevo, fatto per fare un libro, ma è la sommatoria di tutti quei percorsi mentali di Sozzas dal 1947 a oggi. Su argomenti diversissimi. Il primo è del 1946, dicevo, l'ultimo del 2001. Il primo si chiama La coerenza di Noitra. E l'ultimo è uno scritto sulla pittura di Mario Radice. Quindi, diciamo, sono due pezzi che riguardano il lavoro di altri. Cioè Ettore racconta attraverso una sua scrittura, si pone in rapporto con l'opera di altri. La racconta si racconta attraverso questo racconto. Tra questo scritto e l'ultimo ci sono una miriade di tematiche affrontate. E per questo dico che il libro è un libro antiteorico, dal punto di vista canonico del termine. Cioè non vi si riporta nessuna teoria per punti e per parti su quello che deve essere il progetto d'architettura, di design, su quello che è successo nella storia dell'architettura e del design dal 1947 a oggi. Si raccontano invece attraverso dei registri tematici diversi, sempre il medesimo percorso di affabulazione e di analisi intima del progetto. C'è un primo registro molto, direi quasi colto, che è quello degli scritti su Mondrian, su Duiker, su Pevsner, sull'astrattismo. Cioè scritti, come dire, che quasi sembra che Ettore si prenda sul serio. Poi magari mi dirà che si prendeva sul serio. Sono forse i primi scritti, fino agli anni 50, metà degli anni 50, dove evidentemente c'è un problema di schieramento, di interpretazione o anche di ampliamento della cultura architettonica italiana nel dopoguerra attraverso uno sguardo che va dal di là dei rapporti forse un po' meccanici con il razionalismo. E infatti di questi personaggi di cui Ettore parla, ne parla anche da saggista attento. E io mi sono un po' meravigliato che fosse così bravo, abituato invece a sentirlo scrivere come parla, o a parlare come scrive, cioè in maniera con una specie di consciousness stream, di parola che segue esattamente il pensiero che va. Invece in questi scritti qui ha fatto il compito bene, ma parla proprio da storico dell'architettura. Mentre il secondo registro, diciamo, tematico, è quello, forse più vasto e anche più ricco, è quello dell'antropologo, del viaggiatore. Viaggiatore non solo in termini geografici, ma proprio del viaggiatore attraverso le cose, attraverso i comportamenti. Cioè un osservatore critico di comportamenti, di luoghi, di persone, di costumi, quasi mai a partire da un problema specifico che riguarda il progetto, ma riconducendo poi tutti questi racconti, queste analisi, a una vera teoria del progetto. Un'analisi anche dubitativa sulla società dei consumi e sulle mutazioni che questa adesione, un po' diciamo euforica, che nel dopoguerra ci fu alla società dei consumi, si portava dietro come esiti non tanto sociali, che dal punto di vista politico, mi sembra di dire che Ettore è un, come dire, non un pacifista, ma uno che non ama schierarsi politicamente in termini partitici, ma semmai in termini poetici ed esistenziali. Queste mutazioni che egli registra in questi scritti, di tipo diciamo antropologico, sono proprio mutazioni culturali. Io ritrovo in certi pezzi, in uno in particolare, un atteggiamento un po' quasi pasoliniano nel vedere come la cultura del vivere e del fare viene trasformata da questa ventata di rinnovamento che l'industria, la società dei consumi si porta dietro. Il pezzo si chiama Alberghi e Tende e racconta di come si facevano le vacanze nella riviera francese nel 1923, ai tempi di Scott Fitzgerald, e di come invece le fa la gente oggi, con la roulotte dietro, usando questo mare come fosse una specie di nuovo parco di divertimenti, essendo anche, come dire, aderendo a questa nuova cultura di massa che usa il paesaggio in maniera diversa, forse con un po' di nostalgia per un'eleganza perduta, ma però dicendo, in fondo, questa è la modernità oggi. A questa noi dobbiamo rispondere anche come progettisti. L'architettura come arte di abitare è sempre un altro tipo di di grande tema che questi scritti affrontano con delle note caustiche e laterali, quindi non strettamente disciplinari sul tema della città, ma però parlando in marina estremamente precisa di periferia del rustico, inteso come stile o come nuova retorica pauperistica, delle tende, sempre come strumenti di mobilità, di nuova mobilità, cioè del nomadismo. E a questo, diciamo, regista antropologico si affiancano poi le note di viaggio dove c'è questa lettura in prima persona proprio dell'Oriente, dell'Oriente dell'India, specialmente dell'Oriente asiatico e del continente indiano e dell'America. Questo mix e questa ibridazione culturale per cui alla fine non c'è una adesione come dire fideistica a una o l'altra delle culture, ma anzi c'è come la volontà di non volerle separare, cioè di non volerle considerare come cose separate da osservare senza usarle, ma anzi c'è una volontà di opporsi a questa separazione, di accettare la diversità come grande ricchezza e quindi di usare proprio le culture e il meccanismo del viaggio stesso come grande possibilità che abbiamo noi, anche come persone che si dedicano al progetto, di cogliere la diversità e modi diversi di fare le stesse cose, che cioè di vivere. L'ultimo è il più, diciamo, registro più sottile, forse anche più inedito, diciamo è un registro poetico, lirico, in cui la scrittura proprio insegue con una grande fluidità, adesso lui ha ragione, ha detto che avremmo parlato bene di lui, anche a parlarne un po' male, ma io però, magari dopo, adesso dico quello che mi sembra bello di questo libro, come in questo registro poetico-lirico si indaghi attraverso la storia intima, personale, il senso della materia, della natura, il mistero e le ragioni del fare, cioè perché si fanno le cose. Ce n'è una che si chiama Architettura 1988, che è proprio contro le caste degli architetti, le caste degli specialismi, dell'accademia, cioè questa battaglia solitaria che Ettore conduce continuando a disegnare, a scrivere da più di 50 anni, dicendo che si disegnano le case, ma è meglio disegnare le idee, insomma, contro la storia come successione di monumenti. E poi ci sono invece degli scritti come quello di Bambino che attraversa un bosco dove non si parla di progetto, di design, di architettura, però c'è in una specie di bellissima sintesi c'è questa esperienza fisica dell'attraversamento di un bosco che è anche un'esperienza quasi architettonica. In fondo, quindi, questo libro propone, anche se Ettore non lo sembra, ma è un libro ottimista. È un libro dove si accetta la contaminazione come mezzo utile per appropriarsi di un linguaggio individuale. Cioè, il problema è quello di avere un linguaggio individuale, anche solitario, se vogliamo, ma nostro, e di raggiungerlo attraverso le vie più diverse, non solo quelle dello studio specifico delle discipline del progetto. Dicevo che è un libro ottimista anche, che è un libro pieno di amore, perché pensa profondamente che la qualità della vita sia concentrata nel fare. Cioè, che se non si fanno delle cose ma proprio con le mani, non si ha questa suprema, primaria, direi, ancestrale forma di conoscenza che è il trasformare qualcosa attraverso un atto individuale. poi ci sono due aneddoti proprio che riguardano questo amore per la materia, per rifare con le mani. E uno è io gli avevo chiesto una volta ma tutti questi acquerelli che sono tutti questi fondi bellissimi, omogenei dei suoi disegni li fai dico come li fai? Mi raccontava con un grande amore questa ricerca proprio della materia, del colore, della pasta che viene stesa piano piano. cioè alla fine dicevo prima un esercizio ginnico, un esercizio quasi zen, come il fare sia una forma di liberazione lenta della propria qualità individuale sulla carta disegnata. L'altro invece è su questo elogio che aveva fatto l'altro giorno parlando alla presentazione dell'Ivo di Enzo Mari dove faceva una specie di elogio si riconosceva come in una forma di cultura rurale cioè diceva che sia lui che Enzo Mari avevano questa radice profonda di tipo rurale che riguarda questo rapporto estremamente diretto con il fare con la natura e con le cose. Adesso io cedo la parola dicevo in ordine di lunghezza di capelli di cortezza di capelli ci siamo messi d'accordo prima perché prima tu prima lei siccome i capelli recentemente tagliati cortissimi a Lea Vergine e poi a Francesca Alfano poi naturalmente siccome Ettore è venuto qui questa sera se no io non facevo questa serata qua se non venivi spero che noi o anche altri gli facciano delle domande ma non per sapere delle cose se no altro proprio perché per disturbarlo per disturbarlo io sto per disturbare ecco grazie vorrei sottoporvi una serie di osservazioni che mi sono venute di riflessioni che mi sono venute durante le 48 ultime ore dedicate alla lettura del libro alla rilettura anzi del libro e anche ad altri testi più vecchi o in altri cataloghi di Ettore di Ettore Sozzas dunque direi che tra le tante cose che ho letto di Sozzas e tra le tante cose che ho sentito dire non non è mai caduto l'accento su due fatti fondamentali secondo me Sozzas è uno scrittore politico e per molti versi scandaloso è politico senza essere ideologico ed è politico per la sua ininterrotta opposizione al diciamo cattivo gusto dominante o perlomeno a quello che denuncia e alle abitudini cattive non tanto alle cattive abitudini ma alle abitudini cattive degli umani ed è politico senza essere ideologico perché è sempre connesso con il significato della vita pubblica è politico senza essere moralista cioè conforme al buon costume non sfoggia massime a sfondo educatore ed è scandaloso perché essendo architetto figlio di architetto rivolge l'attenzione ai tramonti alle albe alle piante agli animali ai poeti ai rituali del cibo ai fondi di salsa all'aiku e all'eros e alla morte c'è molta morte in tutti gli scritti di Ettore e fin dai primissimi dunque circa 550 pagine edite poco tempo fa da Neripozza ottimamente curate da Barbara Radice come da Milco Carboni e ben introdotte devo dire da Demetrio Paparoni raccolgono questi scritti che vanno dal 46 al 2001 come avete sentito scritti che senza alcuna certezza senza alcuna supponenza raccolgono stagioni e stazioni potrei dire dell'itinerario psicologico intellettuale ed emotivo ed affettivo dell'autore con incontestabile spirito non accademico non didattico non didascalico soprattutto alieno da qualunque forma di proselitismo e riflettendo su questo mi sono detta ecco è proprio per questo è questo che ce lo rende forse così amabile amato così amico e sodale in alcuni momenti della vita naturalmente in questo libro c'è tutto quello che serve sapere sull'architettura e sul design e fin anche sul contro design e si impara tutto quello che c'è da imparare soprattutto si impara a vedere ma quel che rende ogni suo testo extraordinario è anche la scrittura un po' desunta suppongo comunque suggestionato dalla sua ammirazione di tanto tempo fa nei riguardi di Gertrude Stein o perlomeno io ce la ritrovo spesso in una serie di Tic ma la scrittura di Sozzas sa mescolare drammatico ed ironico memoria e ricordo nostalgia forse malinconia certo sbigottimento e sdegno a seconda di quanto va narrando ma non come può fare un adulto come fa un adolescente o se volete stare all'anagrafe un ottantenne di gioventù struggente nel 77 recensendo me lo perdonate ma è brevissimo non ve lo leggo tutto recensendo un suo libro dell'epoca su tempo illustrato avevo scritto questo architetto famoso per il suo design magni macchine per scrivere arredamenti per uffici calcolatrice apparecchiature elettroniche mobile ceramiche gioielli chiamato semplicemente Ettorino in realtà e tante altre cose diffusore di quella dimensione di stare al mondo che fu poi detta contro cultura si pensi alla rivista pianeta fresco filosofo pittore fotografo anacoretta corrotto e corrompibile alessandrino per molti aspetti capace di vivere all'altezza dei propri sogni tutto questo lo provano i collage del periodo in cui era gravemente ammalato le ceramiche delle tenebre gli scritti sull'India sul Giappone e sull'America e la serie di disegni il pianeta come festival mi guardi perché ti pare bello che gli abbia studiato tanto eh ah nel 77 lontanissimo scrivevo bene allora colui che appena arrivato a Milano mi piaceva chiamare la gaffa umana del disegno industriale nel suo testo che ancora mi commuove che principia quando ero piccolissimo che ero un bambino adesso sono diventato così grande che qui davanti sul petto sono pieno di peli bianchi adesso che sono vecchio mi concedono di disegnare macchine elettroniche macchine con luci fosforescenti con suoni che nessuno sa se sono ironici o cinici ormai le cose che faccio mi sembra di farle sedute in un bunker dov'è la vita e dov'è la morte e mi chiedevo allora e sono passati tanti anni saprà poi più trovare Ettore ancora petali di fiori profumati da spargere con grazia antica sì sì li ha trovati e li trova ogni giorno leggendo questo libro ve ne renderete conto ora io potrei citare qualcuno dei capitoletti ma per me è impossibile perché è impossibile scegliere voglio dire indicare i migliori hanno tutti un'altissima qualità da quando racconta dello scultore Persner ai pittori Mario Radice o Francesco Clemente di quando scrive delle porte e dei muri di cosa è una porta cosa può servire una porta cosa suggerisce una porta fino a arrivare all'astrazione e alla pura filosofia sulla porta e sull'oggetto porta e sull'oggetto muro altra cosa che non è mai stata notata secondo me il Sozzas scrive sempre io io non capisco io non so io non sono sicuro io non so se mi sono spiegato scrive sempre io ma ci sono molti modi di usare o di dire io e Sozzas riesce laddove la più parte degli scrittori 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 fallisce cioè lui riesce a mettersi da parte si fa da parte intanto che si racconta o che racconta devo fare una piccola parentesi forse divertente forse curiosa anche per Ettore ma la parola Sozzas per me cominciò a significare qualcosa nel 63 dunque ero giovanissimo mi arrivò il dattilo scritto di un testo per la per un convegno che si teneva quell'anno nel settembre a Veruccio una cosa organizzata un convegno organizzato da Argan e poi da un certo Filiberto Dasi che qualcuno ricorderà dunque questo dattilo scritto era un testo sul letto il letto come mobile e sulla camera da letto era la relazione e io rimasi interdetta per l'argomento e soprattutto per l'argomentario forse per tutti e due avevo solamente letto Dorfless sul design e quindi il mio sconcerto era comprensibile e quindi io ero allora proprio debuttante nel mondo di chi sapeva tutto sconcertatissima telefonai ad Argan per chiedere notizie domandai notizie e spiegazioni e Argan mi disse un olivettiano va di bene bizzarro ma geniale e fu molto divertente per me poi sentire ma riprendo il discorso per pochissimo ho finito dei testi e rileggendo questo libro man mano che sfilano i testi che sono poi come un viaggio tra le parole per riuscire a formulare pensieri il punto di vista di chi scrive si fa sempre più distaccato sino alla vera e propria domanda filosofica io non credo non so se altri architetti abbiano scritto e narrato così diciamo al netto di Marco Vitruvio Poglione e di Leon Battista Alberti ma come voi mi insegnate trattatistica sublime ma stricto senso cosa mai scrissero mi sono chiesto in questi giorni Antemio vi ricordate era l'architetto convocato dai romani per finire la Santa Sofia Istanbul cosa avrà mai scritto Isidoro di Mileto Apollodoro di Damasco Agostino di Duccio sino a Loss e Gropius che poi abbiamo tutti letto sino a Daldorossi quindi mi sono detta gli architetti scrivono scrivono tutti scrivono bene ogni qualvolta ho letto i contemporanei e mi sono sempre chiesta perché avessero scelto l'architettura o il design invece della scrittura e ancora me lo chiedo pensate quale germanista raffinato sarebbe stato Alessandro Mendini quale reporter Raggi quale critico teatrale cinematografico Aldo Rossi ma questa è un'altra storia per concludere direi quello che veramente ho provato cioè che questo libro non è come sfogliare l'album dei ricordi ma l'album di quello che potevamo fare o addirittura e credo in molti casi leggere lo spartito leggere come uno spartito leggere lo spartito di quello che ancora potremmo fare oggi ho finito ho fatto bene andare in ordine di lunghezza dei capelli Mi ricorda questa tua chiusa sul fare, su quello che possiamo fare, che c'è uno scritto nel libro che si chiama Mi hanno detto che da qualche parte lo possiamo fare, che riguarda qualcosa che ho vissuto anch'io insieme a Ettore E che però ho capito meglio leggendo questo scritto, l'avevo già letto ai tempi quando ero uscito su Casabella Riguardava il progetto della Global Tools, che era un progetto suicida e delirante di fare delle scuole per lo sviluppo della creatività individuale Dei laboratori, che scuola, perché scuola era già una parola un po' troppo istituzionale Dei laboratori liberi, aperti per lo sviluppo della creatività individuale Che erano fatti da tutti quel vasto gruppo di amici nemici che era poi il Radical Design E forse Ettore, da saggio, un po' più saggio degli altri, capiva che questo progetto bellissimo si portava dentro delle contraddizioni Devote proprio alle tensioni individuali di ognuno che in questo progetto portava la sua personale voglia di fare, di dire delle cose Anche in antagonismo, in maniera antagonista rispetto agli altri Infatti la scuola morì in cool, cioè i laboratori partirono, si fecero alcune esperienze molto solitarie E poi in una riunione a Milano nella Galleria dell'Uomo e l'Arte ci fu un litigio colossale Tutti si accusarono di ogni nefandezza, siccome poi tutti erano contro il potere E la gestione del potere, era chiaro che chiunque anche avesse ordinato la carta delle macchine da scrivere Aveva il potere di ordinare la carta e quindi lo scrive Si autoestinse molto rapidamente, però quello scritto in effetti conteneva un dubbio e anche un'amorevole previsione Cioè mi hanno detto che in un posto forse lo potremmo fare, poi non ci siamo riusciti ma non importa L'importante era avere questo progetto, avere voglia di farlo e poi individualmente Ognuno l'ha portato avanti nei modi, nei tempi come è riuscito Ecco, era solo un aneddoto perché questa finale di Lea mi ha ricordato Anche questa saggezza che in fondo forse la vedeva lunga Sapeva che questi giovani un po' incazzati si sarebbero finiti per litigare tutti fra di loro E anche le grandi doti di ognuno non riuscivano poi a dare luogo a un progetto unitario Forse il destino era proprio quello di andare ognuno per la sua strada Come poi in effetti avvenne Passo adesso la parola a Francesca Alfano Miglietti Che io ho invitato questa sera perché l'ho conosciuta qualche anno fa grazie a Lea Vergine Poi lei faceva una rivista molto eccitante che si chiamava Virus Di arte contemporanea Secondo me ha un... Voglio dire, mi interessava un suo parere proprio su questo libro Una sua reazione su questo libro per il suo contenuto trasgressivo Cioè, o forse invece non trasgressivo Apparentemente trasgressivo E siccome io la considero un'esperta di trasgressioni C'è una mammola È una mammola Al confronto di Lea è una mammola Forse di trasgressioni altrui diciamo Comunque, non lo so Chiedo di dirmi cosa le è successo Provando a leggere qualche passo Di questi vagabondaggi di Ettore Beh, intanto io ti ringrazio Perché probabilmente questo libro l'avrei incontrato In un altro momento E non l'avrei letto adesso Invece forse adesso per me Per la mia storia personale Per i miei giorni Per questa tarda primavera Era il momento giusto Era il momento giusto perché Io credo di non dimenticare mai più Per tutta la vita La bellezza delle donne birmane, per esempio E ogni volta che tiro sugli occhi Scopro che siamo a giugno E quando Sozzas scrive Del cielo di giugno Io lo vedo lì Ed è esattamente come lo descrivo Come lo descrive Intanto questo libro ha una qualità rarissima E cioè che ha una cura leggera I due curatori Cioè Milco Carboni e Barbara Radici Sono riusciti a curare questo libro Senza mai apparire Con una mano leggera Come si cura un bambino Come si cura un fiore Come si cura qualcosa di cui Si ha voglia di tenere come una cosa preziosa Senza romperla Senza cambiare il tono Senza cambiare niente Ed è difficilissimo curare un libro Così imponente Così Così tanto E' un libro così tanto Ed è un libro così tanto Perché è un libro Impudico Come sono impudici I bambini Che non sanno di dire le parolacce E quando scoprono che sono parolacce Le ripetono Aspettando la reazione Come lo sono i poeti Che lo sono naturalmente Non pensano di fare rivoluzioni O di cambiare il modo di pensare Ma lo fanno naturalmente Questo libro ha due qualità per me Non essendo un architetto Non essendo un addetto ai lavori Non essendo un addetto ai lavori di niente Spero di essere tutta la vita Una principiante E di continuare a Cercare connessioni E queste parole terribili Che mi piace tanto usare Che sono appunto Ibridazioni Contaminazioni E così via Spero di non avere mai abbastanza Anticorpi Che mi difendano È un manuale di architettura Per me Un manuale di architettura Non si occupa di muri Di porte Di finestre Ma si occupa di persone Si occupa di emozioni Si occupa di capire Se la persona che vive In un luogo È felice o infelice Quindi di costruire Una casa felice o infelice Si persegue la felicità E l'infelicità Con lo stesso passo E con lo stesso impegno Si sceglie di essere felici O infelici E secondo me Un architetto bravo E secondo me Il più bravo Degli architetti Di tutta la storia dei tempi È Italo Calvino È un architetto Che costruisce Con quello che c'è Con le ragnatele Con i laghi Con gli stagni Con la perdita Di un amore Con la perdita Di un padre Di un figlio Si costruisce Con le emozioni E questo libro È un libro scandaloso Perché è un manuale Di stupori Io sono riuscita Ad andare con Ettore Sozzas E di essere con lui In molti dei viaggi Che ha fatto Pur avendolo conosciuto Molto di recente Non so se è vegetariano Non lo so Però So che tipo di reazioni ha E che tipo di sguardi ha E lo so che non si fa Ma faccio spesso Quello che non si fa Io vorrei Che tutti facessimo Questo pezzetto di viaggio Con Ettore Sozzas Io vorrei Che andassimo Andassimo tutti insieme In questa Birmania Che lui ha visto E qui trovo La sua vera rivoluzione Cioè il suo modo Di parlare delle cose Di costruire dei mondi A partire da quello che c'è Lui Lo leggerei tutto Ma non si può Dice che non sa appunto Che è in Birmania E quando si accorge Di essere in Birmania Dice Ma quando ho visto i fiumi Dentro la giungla Mi è venuto in mente Quel film Che avevo visto Che si chiamava L'arpa birmana Era un film straordinario Melanconico L'unico film Contro la guerra Che ci sia mai stato Dove la guerra Non si vedeva Si vedevano soltanto I morti della guerra E le sepolture E l'aria che si tende Quando si devono Seppellire tutti i morti I morti giovani Invece i film Cosiddetti di guerra Di solito Fanno vedere la guerra E fanno vedere L'eroismo E fanno vedere Che in guerra La ragione da una parte E il torto dall'altra E così Quelli che hanno i soldi I produttori Quei tipi che non so chi siano Se fanno un film di guerra Dalla parte della ragione Quei tipi Credono di fare Un film contro la guerra Perché hanno la scusa Che sono dalla parte Della ragione Ma invece Quei figli di puttana Fanno comunque Un film di guerra Un film a favore Della guerra La fanno Per girare Nella pancia della gente L'idea Che prima di tutto C'è la guerra Che non si può fare A meno della guerra Che la guerra È una realtà E che basta essere Dalla parte della ragione Per essere scusati E così A me Questi film di guerra Che siano dalla parte Della ragione O dalla parte Del torto Mi fanno sempre schifo Lo stesso E invece Mi piaceva quel film Che si chiamava L'arpa birmana Perché era la storia Di un tipo Che girava per le montagne Della birmania Per seppellire i cadaveri Che la guerra Aveva lasciato in giro A marcire E poi un bel giorno Finito questo lavoro Orribile Si fermava Affrando illuminato Sulla riva Di un fiume deserto Un grande Immenso fiume deserto Come erano quelli Che io stavo sorvolando E che mi hanno fatto Venire in mente Che stavo andando In birmania E l'idea Che io stavo andando In birmania Mi commuoveva Fino alle lacrime E io devo dire che Anche adesso Che l'ho letto Per la centoquarantestima volta Mi viene da piangere L'idea che veramente Ci sia entrato nella mente Il fatto che la guerra È necessaria Che c'è bisogno Che uno abbia ragione Che uno abbia torto Che è insopportabile Che ci sia una collezione Di immagini Inaudite Con cui adesso Purtroppo io Devo fare i conti Perché non riesco A cancellarle A dimenticarle Per cui Io non capisco Io non so A chi chiedere un risarcimento Perché Si entra così Nella mia mente Nella mia vita Invece di raccontarmi Storie di donne birmane Ma La parte più bella Di questo racconto È quando Si arriva finalmente Fuori Dalle ragioni Dalle altre Cose In questo posto Dove Ettore Sozzas Incontra Le donne birmane Uomini birmani Ce ne erano pochi Forse perché Erano andati a lavorare E c'era solo Qualche vecchio sdraiato A leggere il giornale Invece Intorno alle case C'erano ragazze sedute E bambine E bambini Con i grandi occhi Che non facevano Troppo rumore E tutti sorridevano Come se fossero stati Un popolo felice Come se esistesse Sulla terra Un popolo felice Quelle capanne Quelle case Chiaro Erano state inventate Erano state inventate Da queste donne Sorridenti birmane Non sono vere e proprie case Ma sono piuttosto Dei vestiti Perché sono fatti Distuoie Bambù E le mille invenzioni Di ogni genere Per intrecciare Canne Foglie Liano E pezzettini di legno Sono intrecci E invenzioni Con la grazia Delle cuciture Con le improvvisazioni Dei nodi E dei nastri Queste capanne E queste case Sono leggere Estremamente leggere E non danno nessuna idea Che debbano durare nel tempo E questo mi faceva pensare Che le donne Sorridenti birmane In fondo Non avessero idea Del tempo Non avessero idea Della famiglia Come patrimonio borghese Da tramandare E in fondo Non avessero neanche idea Dello spazio Come se sapessero Le donne birmane Che in qualunque momento Si può abbandonare Una casa E un luogo Per fare un'altra casa In qualche altro posto Queste capanne E queste case Mi facevano pensare Che queste donne Nonne birmane Avevano capito Come sia necessario Per poter sorridere E ridere E essere un popolo felice Liberarsi il più possibile Dai paesi della proprietà E soprattutto Dai servizi Che la proprietà Domanda immediatamente La casa Per queste donne Sorridenti birmane È veramente Soltanto un bell'oggetto Da usare Un vestito Che si può anche cambiare Che non si deve piangere Se si vuole cambiare Che si può fare Con le proprie mani Che si può disfare E magari girare Dall'altra parte Perché sembri nuovo Oppure tagliare Un po' più corto Se viene la moda Dei vestiti corti O che so io Beh avete visto Come in Pochissime righe In cui si Sembra un racconto Di viaggio Sembra uno sguardo Occasionale Si parli di politica Di guerra Di architettura Di proprietà Di come il peso Di avere le cose Ed è bellissimo Perché poi racconta Come ci si sposa In Birmania Che non c'è bisogno Di carte bollate Ma basta dormire insieme E lasciare i vestiti fuori È come L'idea Che queste donne Birmane O questo popolo Birmano Non avesse scelto La pietra Per la propria abitazione Quindi non la solidità La leggerezza Del cambiare idea Del cambiare posto Del cambiare luce Questa grazia Di capire Da dove entra la luce Da dove si mette la testa Dove si mettono i bambini E questo gioco Che si fa da piccoli Io credo che La grande Il grande scandalo Di questo libro È questo sguardo Veramente Mai di uno Che sa le cose È un manuale di stupori E ogni volta Restituisce questo stupore Io ho letto questo libro Come se fosse Un libro di Di uno scrittore di viaggi Amo molto Le scritture diaristiche I racconti di viaggio I manuali di volo Perché Quelli più bravi Riescono a far vedere I luoghi In un modo indimenticabile Molto più bello Forse del mondo stesso Perché ogni volta Che noi guardiamo Un posto Lo guardiamo Col piacere O il dispiacere Di chi ce l'ha raccontato prima Così come andiamo al cinema A vedere un film Di cui ci hanno parlato benissimo E spesso non ritroviamo Quello che ci hanno raccontato Anche prima Sentendo parlare Di questo libro Ancora una volta Ho capito come I libri Come le opere d'arte Sono fatti ad persona Incontrano ognuno Su una lingua propria Intima Personale E ad ognuno Dicono quello che forse C'era bisogno di sapere In quel momento Io devo dire che Sono molto felice Di aver letto questo libro In questo momento Sicuramente Non l'avrei A una bruttissima copertina Lui sembra un cowboy Si chiama scritti Non vuole piacere E un libro che non vuole piacere E soprattutto Quello che a me piace molto Di questo libro Che chi ha scritto questo libro Non vuole piacere Si piace molto E non ha bisogno di piacere ad altri Scrive per sé Vive bene Così E ho la sensazione Che Si addormenti Con un progetto Di un giorno dopo E che si svegli Con un sacco di cose da fare Grazie Io sono il conduttore Adesso dovrei Tirare le fila Mi punzecchia sempre Lea Chissà perché No mi sarebbe piaciuto Anch'io leggere qualcosa Ma Francesca mi ha fregato E c'era un pezzo bellissimo Che No ma non lo posso leggere Perché è una menata Lo posso dire Anche perché Questo è un libro Che si può leggere Ecco Quindi voglio dire Vi consiglio Di prenderlo Perché ci sono un sacco Di libri di architettura Che uno È giusto che abbia in biblioteca Che cominci Che poi Lasci lì Questo qua invece Non essendo un libro Di architettura Ma di vita Si può veramente leggere E volevo dire Che forse Ci sono due cose Che non abbiamo Due caratteri Di questo tipo di scrittura Di questo tipo di Di questo libro Che non Di cui volevo parlare Che erano C'è come dire Il tema della pietà Nel senso Proprio Umano ed etico Del tema Della pietà Cioè è un libro In cui le cose Sono raccontate Con grande amore E con uno scopo Che è quello Di cercare anche La felicità Cioè c'è una Voglio dire Un obiettivo Molto Molto umano E molto semplice Nelle ragioni Che portano a scrivere E che ci sono In questi scritti Di Ettore Che in fondo Si può Lavorare Per piccoli Progetti Che tutti insieme Nella loro sommatoria Migliorano La qualità Della vita Non di chi Scrive Anche se Francesca Dice che questo è un libro Che non vuol piacere Ma forse è un libro Che vuol Far capire Delle cose Quindi È un libro Di grande Utilità Ed è anche un libro Che affronta Fondamentalmente Il tema Della modernità Senza Forse Citarla mai Cioè Il tema Della modernità E il come Fare in modo Che L'insieme Vorticoso Di avvenimenti Apparentemente Scoordinati O scordinati Che ci inseguono E che ci travolgono Possa Trovare un senso Attraverso Una Continuo Lavorio Individuale Di comprensione Di Accostamento Di confronto E di critica C'è un pezzo Non lo leggo Perché È bellissimo Che si chiama Mobili Che è del 64 Dove Ettore In un grande Magazzino A Parigi Probabilmente Pensava I fatti suoi Come succede In un grande Magazzino E Vede Delle ragazzine Vestite Di colori Molto vivaci Vede Che Insomma Che sta succedendo Qualcosa Che forse Lui Di cui si accorge Per la prima volta Cioè Che Stanno cambiando Dei linguaggi Ma non cambiano Perché Li stanno cambiando Degli intellettuali Del progetto Degli artisti O delle Persone Addette ai lavori Li sta cambiando Alla gente E non della gente Matura Ma dei giovanissimi Si accorge Che queste ragazzine Con il loro modo Di vestire Forse di muoversi Di accostare Colori E parti E pezzi Stanno facendo A pezzi Dei linguaggi Anzi Fanno proprio Uno smontaggio Un rimontaggio Di un linguaggio Che è quello Della moda E dice Non dice proprio Cazzo Ma mi sembra proprio Di sentirlo Di dire Porco Cando Quello che volevo Fare io Con i mobili L'hanno già fatto Queste ragazzine Con Con i vestiti Con i loro vestiti Ecco In questo Voglio dire C'è questa capacità Anche di Essere Sempre Giovane Di Ettore Addirittura Lei ha detto Un bambino No Lui ha detto Un bambino Un ottantenne Della gioventù Strugente Io infatti Non gli ho mai sentito Dire Non è vero Non ha mai detto Sono vecchio L'ha detto una volta Su un autobus In Guatemala Per quello Dice cose incredibili Ieri L'unica volta Sono un povero Disgraziato E l'unica volta In cui io sento dire Sono un uomo vecchio Quando In un autobus In Guatemala Fermo In mezzo al fango Che non andava più Ne avanti Ne indietro L'autista Io ero con lui E ha detto Ombre a bajo A spingere Nel fango E lì Tutti gli uomini Hanno cominciato a scendere Io ero incerto Ettore stava fermo E l'autista Che in quel momento Era diventato Il comandante Dell'autobus Ha detto Ombre a bajo E indicando Guardando Ettore Lui fa Io non so Io sono un ombre Io sono un ombre viejo Ha detto E quindi Ne ha approfittato un po' Quella volta Ecco Poi io sono sceso Lui no Perché in effetti L'autista Ogni cento Si fermava continuamente In una fanghiglia O scendere Proprio a mezza gamba Io poi avevo i pantaloni Chiari da esploratore Sa quelle cose Come uno dice Per cui Insomma Il viaggio è bello Ma nel fango Del Guatemala No Volevamo star seduti sopra Ecco Adesso io So che Ettore è qua Prima di fargli Io delle domande Volevo chiedere se C'è qualcuno Qui tra gli amici Che vedo nel pubblico Che rispetto a quello Che abbiamo detto Ha qualcosa da aggiungere Da togliere O se non ha letto il libro Non può parlare Ma Se invece Vuol parlare Anche se non ha letto il libro Può Cioè Voglio dire Poi mi piacerebbe Che L'amico giardiniere L'amico giardiniere Potrebbe dire Qualche cosa Se ha voglia Però Dopo vorrei Che anche Ettore Ci contraddisse Visto che Sì abbiamo parlato bene Ma Non sempre Non montarti la testa Eh dopo stasera Eh ma io sono di Napoli Capisci Faccio una gran fatica Sot sasso Sotto il sasso E sotto il sasso Mi viene in mente Sot sasso C'è qualcuno di L'amico giardiniere L'amico giardiniere Giardiniere perché Ama le piante Ama torturare le piante Però poi Qualsiasi contadino E giardiniere Non fa altro che Coltivare le piante Devi Allora Riesce a baciare Il Riesce a baciare Il microfono Si sente Si sente Si Allora Dico due cose breve Due cose Sentendovi Due immagini Che mi sono venute Eh Allora Io spesso Quando giro Per strada Anche qui Questa sera Paragono Le persone Degli animali Paragono Delle persone A degli animali Qualche volta Perché qualcuno Assomiglia veramente Ad un animale Ma molto spesso Per le caratteristiche Che l'animale Ha Quindi Il cavallo L'elefante Il porco Questi sono pochi Poi ce ne sono molti La voltoio La tigre La iena E allora A che animale Posso paragonare Ettore Bene Mi viene in mente L'albatro L'albatro No Devo spiegare Perché Perché Poi Ecco L'albatro È un grandissimo Uccello Marino Vive molto Vive 30 40 anni È monogamo Vive in certe isole Dell'estremo nord Fa un pulcino Alla volta Il quale impiega Due anni Non se lo mangia Impiega due anni Per vivere E quindi Deve andare a caccia Calamari Eccetera Del pulcino Hanno fatto Hanno fatto delle prove Gli hanno messo dei segnali L'hanno controllato Col satellite Lui si alza in volo Sempre sull'oceano E qualche volta fa anche 35.000 km Andate e ritorno È vero È vero Il pulcino sta per morire Ma fa in tempo A portargli A portargli Perché dico questo Perché dico questo Di Ettore Lo ricavo Non è pazzesco Se il pulcino muore Lui arriva in tempo Ma Ettore E se invece Arriva in tempo Sono morti un sacco di pulcini Tu non lo sai Non sono Se no ti dico che animale assomigli tu Sì Per quello te lo dico Allora Perché Proprio sentendo Voi che Acutamente Avete fatto il compito Di descrivere il libro Con cui concordo Con la maggior parte Delle cose che avete detto Perché mi sembra Ettore Lui va Va in Birmane Va al parco Va da qualsiasi parte Gira Cammina vive Fa il contadino L'albatro va Ha di fronte Il vento Che lo sorregge Non è che Lui sbatte le ale Per 35 km Si lascia trasportare E Questo Mi sembra Una bella immagine Per lui L'altra immagine Io sono tornato L'altro ieri Del Giappone E qualcuno Mi ha regalato Un piccolo dipinto Un disegno Un calligrafo Con due caratteri E mi sembra Che Questa cosa Possa piacere a Ettore Il significato è Il tutto E nulla Naturalmente Il significato Può essere Noveciato Il nulla E tutto Ecco A me sembra Che quando Ettore Parla E racconta Del libro E pare che racconti Altre cose Che non è L'architettura Stia facendo Questo Vorrebbe Non sei un albatro No no Perché A proposito Dell'albatros O albatros Non so come si dice Albatros Un giorno Un giorno con Barbara Dovevamo abbandonare Un'isola deserta Della Polinesia E aspettavamo L'aereo Che non arrivava Eravamo sdraiati Lì sulla spiaggia Perché l'aeroporto Era una capanna E basta E c'erano Lì Gli albatros Che volavano E credo che Abbiamo passato Una delle più belle ore Della nostra vita A guardare Questi uccelli Che volavano Perché veramente Come dice lui Sono uccelli Di una Che danno Un tale senso Di spazio Di libertà E non Non lo dico Perché lui ha detto Che mi assomigliano Eh da te Lo dico perché Effettivamente Questi uccelli Sono degli uccelli Veramente Speciali Veramente speciali Io Volevo fare una A chi ha curato il libro Cioè a Mirko Carboni Volevo chiedere Come ha affrontato Questo lavoro E Te l'ho chiesto chiedendo No anche perché Gli scritti di Ettore Non erano In libri Ma erano sparsi Ovunque Quindi erano anche Scritti per Domus No erano sparsi No erano sparsi In riviste Erano sparsi In inediti Erano Niente Erano raccolti Soprattutto nel suo archivio E la cosa impressionante È che abbiamo pubblicato Un decimo Forse di quello che Ettore Ma forse un ventesimo Di quello che Ettore ha scritto Che dire Insomma È stato un lavoro lungo È appassionante Perché abbiamo Attraversato Più o meno Insomma Tutta la sua attività Di scrittore Un ordine Insomma È stato Bastante L'ordine è stato istintivo Tutto sommato Poi Ce l'ha dettato un po' Anche Ettore Insomma Se lo leggevamo Insieme a lui È stato un lavoro di gruppo A tutti gli effetti No ma basta Ho già detto tutto No volevo capire Tu dici un ventesimo Di quello che ha scritto Ma forse un trentesimo Cioè Il che scrive di continuo Per cui O che lo fermi O che fai un'eciclopedia Per cui Niente Insomma Alla fine Abbiamo fatto Una super selezione Di quello Che lui ha scritto Nel corso di questi Quarant'anni Le 47 Sono 50 Ecco 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 Volevo invece Io non mi ero preparato Domande per Ettore E forse ho fatto male Devo prepararmi meglio Adesso ho fatto il compito male Però mi sarebbe piaciuto Come dire Che di fronte a quello Che noi abbiamo detto A quello che si è detto Qui stasera Rispetto a alcuni temi Che riguardano per esempio La modernità Il rapporto tra Il design E l'architettura Tra il La crescita Della società Dei consumi E quello che il design Ha cercato di Di fare Oppure semplicemente Proprio il rapporto Che La scrittura Lo scrivere Che Il rapporto che Ettore ha Con lo scrivere Gli permette di Esprimersi Sulla realtà Su quello che succede Cioè se la scrittura È per lui Come dire Una necessità Come dire Vitale Individuale Vitale Come il disegno Oppure se nello scrivere Cerca qualcosa Di diverso Mi date un microfono Che non fischia È un altro Nuovo Questo è nuovo Ok È bello Finalmente Una roba Seria Ma non so In generale Io penso Di essere un dilettante Perché Non ho inseguito Nessuna specializzazione Di nessun genere Però il fatto Di essere un dilettante Non vuol dire Che si fanno le cose male Va presso a poco Vuol dire che In ogni cosa Che affronti In ogni In ogni Mestiere Diciamo Che affronti Cerchi di Insomma Di essere più bravo possibile Diciamo Per la fotografia Devi imparare A fare fotografie Per la pittura O Gli acquarelli Devi Devi Aver imparato Un po' Che cosa sono Le carte I pennelli I colori E così via Per l'architettura Devi imparare E pensare Allora Succede questo E più sei dilettante E più Io penso Sei costretto a pensare A quello che ti succede Perché Ogni tema È un tema Complicato Diciamo Ambiguo Complicato E così via Il fatto di essere Un dilettante È perché Credo che Non sono mai diventato Un professionista Vero e proprio Sono sempre stato Un Un signore Curioso E soprattutto Perplesso Il mondo Mi è sempre Apparso Come una cosa Sorprendente E E allora Come dire Non so come dire Non è colpa mia Insomma Quando scrivo Mi interessa Capire che cos'è La scrittura Mi interessa Capire cos'è Un bel testo Sono stato aiutato Anche dalla fortuna Perché ho conosciuto Scrittori di grande importanza Come Hemingway Faulkner Altri scrittori minori Poi ho conosciuto Tutto il gruppo Dei beat Tutti scrittori Letterati Eccetera Poi Per quanto riguarda La pittura Ho avuto Un maestro Quando ero studente Di scuola Dalle università Che mi insegnava Tutto il possibile Non è che me lo insegnava Ma chiacchierando Capivo certe cose Poi per l'architettura C'era mio padre Il mio padre Era architetto Anche lui Un architetto Come dire Che aveva studiato A Vienna Quindi Un taglio Sull'architettura Abbastanza Come dire Corretto Poi riparava Poi riparava Poi riparava Case popolari Del Trentino Distrutte Dalla guerra Quindi per esempio Tutta questa cultura Popolare Dice Ce l'ha del sangue Non è colpa mia Ce l'ho sempre avuta E poi la cultura popolare È diventata il pop E poi la cultura popolare È diventata anche Il modo Col quale i contadini Si costruiscono la casa In un certo posto Curando i venti Curando le acque Curando le stagioni E così via E anche Curando i pesi Per esempio Le leggerezze Gli ingressi Insomma Tutto questo Non è che è merito mio L'unico merito Se ce l'ho È che ho osservato Queste situazioni E che mi hanno sempre interessato Che sono sempre curioso Così come sono stato curioso Con le case Di Paglia Birmane Sono stato curioso Di tutto quanto Sono curioso Ancora adesso Grazie a Dio Per cui non è che parlo Io non ho mai parlato Di giovinezza Non è che mi sento giovane Mi sento curioso Che è una cosa diversa Forse la curiosità Fa parte Di una certa età A una certa età Molta gente Perde curiosità E mi sento vecchio Quando mi accorgo Magari Che perdo curiosità E poi Che cosa posso dire Che loro sono state bravissime Veramente Siete stati molto gentili Molto Affettuosi E Avete detto delle cose Che magari io Non ho anche mai pensato Ma insomma Sono contento Che le avete dette E vi ringrazio molto Grazie Grazie Se non ci sono interventi Del pubblico Possiamo scendere Dove c'è un rinfresco Grazie a tutti Ci vediamo la prossima serata Che non so quando è Grazie a tutti 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 Grazie a tutti